Stiamo arrivando al rifugio padrerino, oh ma che belli, questi fiorellini, azzurri blu, acqua, guado, si vedi di cadere per terra eh, sottoli. Guadon, guadon fanal, eccoci qua, ecco qua. Qui e là, continui, vai su, poi riprendi e vai in là, continui ad andare sempre avanti, fino ad arrivare a Arenzano, Arenzano oltre, da Arenzano vai giù. Rifugio Argentere, no padrerino cosa sta dicendo? Che dicendo? Cosa dice Willis? Ecco qua. Metri 903. Metri 903, ecco qua. Rifugio. Buongiorno, 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 avete finito il Brontosauro tutto? Quasi tutto. Salle, sale, 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 permesso, permesso. Grande feste. Eh insomma. Ci proviamo? Si proviamo, si, si, si. Se volete un bicchiere di vino? C'è? No, c'è, c'è. Un bicchiere intero no, ma mezzo sicuro. Marem, che sentiero, che più che un sentiero sembra un rivone, vabbè. Saliamo su, andiamo dal rifugio padrerino, andiamo su, andiamo a vedere questi accumuli di neve che avevamo visto anni fa da sopra e non c'eravamo resigati a scendere perché mi hanno detto, e poi chi cazzo salisce? Sale ancora qua. E invece adesso, ci proviamo perché... e si va su. Di forza... non ne ho... quasi... più. Da chi Nandole? Meno... Guardate... Maledizione... che è andato via il... E' andata via... la neve... da sopra la rama. Vale... Sì... E' andata via... E' andata via... Sì... Non ti muovere... Pugianete eh... Ok... Ok... Startmo lì. Spettacolare. fa ancora due pass dai Davide che tiene tiene benissimo ahahahah oh ahahahah ah ah oh passa poi passa Davide che ti faccio una foto qua con tutto il cielo allora mettetevi ecco Davide girati di qua poi aspetta aspetta perfetta vai tranquillo ma sai che con i capelli così senza occhiali ti assomiglia a bosco rossi non ho il suo portafoglio però voglio una vita voglio una vita come quella di Steve McQueen e basta davanti a quella del un peracchio che di cagata in vita sua ne ha fatte vieni vieni guarda carava guarda carava un po' senti Sì, sì, adesso abbiamo scollinato qui siamo vicino al Monte Argenterno ecco là dietro c'è quel vivacco piani di lerca di là vedi c'è la padania c'è Boschi che fuma guarda mi metto il cappellino perché sennò qua domani c'ho non una polmonite doppia tripla dai alta via delle alpi lì, eh sì dell'appennino lì a dopo stiamo arrivando al rifugio argenteo là c'è tutta la pianura padana si vede anche il Monte Rosa Monte Rexia in fondo passo del Faiallo adesso qua arriviamo al rifugio qui è privato però hanno ricavato una stanzina d'emergenza guarda Genova là in fondo questa qua è la parte invernale lì dentro questo qua è la parte invernale lì dentro adesso andremo all'Argentea l'Arce Genova il mare il mare il savona ecco guarda 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 che l'hai visto guarda guarda si i sentieri che la gava ed ecco le due file che ho fatto io quelle due lì una e due una e due e nella seconda di qua c'è un bellissimo rifugio piccolino bello ci andremo ci andremo dai anche lì dai che buono che faccio due foto poi anche che spettacolo rifugio Argentea tutta la bella valle a Renzano stiamo arrivando sul monte Argentea e questo scende è la la punta la vetta è la la prima cosa è che magari sta qui ci arriva sempre manca di 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 giriamo qua a bordo sterce tutto a dritta poi è di un mond lieder però è tre pallini rossi e mamma mia che va così da chi Nando? le chi il triangolo rosso il triangolo rosso è qua oi mamma basta salita ragassuoli basta adesso siamo arrivati però giusto una righina scoppiato finita la pellicola con l'altra con la gopla ora la faccio siamo arrivati all'Argentea la fine del mondo di la c'è monte rama qui ne vai lì sotto qua 1082 la quota 1082 la sotto c'è padrerino il rama e adesso la c'è Savona Noli Cogoletto il Nando Davide e via va bene ci sentiamo dopo